Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale di TVA è oggi l'Avvocato Stefano Catuara, una trasmissione, grazie Avvocato per aver accettato il nostro invito, una trasmissione che solitamente facciamo sempre con l'Avvocato nelle vicinanze di un momento elettorale, chiaramente la trasmissione è in barcondicio per cui non parleremo di partiti, non daremo nessuna preferenza, realizzeremo un aspetto sia tecnico che anche sociologico, ideologico, insomma come si sta affrontando da parte dei siciliani e anche degli agrigentini questo momento di campagna elettorale che trova anche una modifica nella rappresentanza popolare all'Ars, ricordiamo che da 90 quest'anno per la prima volta in questa legislatura che verrà i parlamentari saranno 70, per cui chiaramente 20 parlamentari in meno, nella nostra provincia credo che siano due in meno, uno, un parlamentare in meno, per cui ecco tutto questo, faremo un'analisi anche della legge, delle eventuali probabilità di maggioranze, che cosa ne potrà uscire fuori? Avvocato, come si vive questo momento di campagna elettorale alla luce anche di questi nuovi numeri che formeranno l'Ars? Intanto finalmente ci siamo perché il momento elettorale è un grande momento di partecipazione dove i cittadini sono chiamati a scegliere la classe dirigente per i prossimi 5 anni, lei aveva accennato a una riforma che c'è stato nei numeri, 62 parlamentari sono scelti nelle liste provinciali, mentre il presidente eletto è pure deputato nella lista regionale, il primo non eletto tra i presidenti diventa deputato regionale e qualora non si raggiunga la maggioranza quindi parlamentare fatta da 36 parlamentari, è evidente che tutti coloro che sono nella lista regionale diventano deputati con il presidente eletto e così la nuova assemblea regionale sarà formata da 62 parlamentari eletti nelle liste provinciali, 7 compreso il presidente che vincerà l'elezione quindi 69 più il candidato presidente primo dei non eletti e quindi si arriva a un numero di 70, vi è questa novità che si passa da 90 parlamentari a 70 parlamentari. molti chiedono, c'è questa nella distribuzione dei seggi, si parla sempre di maggior resto per l'assegnazione dei candidati, cosa vuol dire avvocato? Parliamo delle preferenze che vengono dati chiaramente ai partiti, quelli del presidente, quelli sono diretti del presidente. Il sistema parlamentare in atto consente di assegnare prima i parlamentari con il quotiente intero su base provinciale e successivamente qualora non vi siano liste che abbiano raggiunto il quotiente intero si assegneranno, come nel caso della nostra provincia, ma così vale per tutte le province, le nuove province in Sicilia, si assegneranno con il maggiore resto. In questo caso poniamo che il quotiente, perché si valuta in funzione del numero di votanti diviso il numero dei parlamentari che risulta essere eletto, quindi il quotiente intero, il numero dei votanti, dei voti validi e per voti validi intendiamo, questo è l'altro fatto di cui dobbiamo tenere presente, saranno escuse le liste che non raggiungeranno il 5%, quindi dei voti validi sono i voti che rimangono escludendo le liste che non raggiungono il 5%. Raggiunto determinato il quotiente intero si assegnano i parlamentari, le liste che hanno raggiunto il quotiente intero e per la differenza coloro che hanno il massimo resto, secondo un ordine decrescente, per provincia si assegnano i parlamentari, nel nostro caso fino a 6 parlamentari, quindi le liste che raggiungono i primi 6 posti, Palermo ha assegnato 16 parlamentari e deputati, Catania 14, Messina 8 e così via, l'assegnazione avviene in funzione del numero di abitanti delle singole province. Quindi se una lista regionalmente non arriva al 5% non ha nessun rappresentante? È esclusa dalla partecipazione, non ha assegnato alcun parlamentare. Ma questi voti si perdono anche per l'elezione del Presidente? No, non si perdono perché… Cioè in quel caso fanno quorum? No, non si tratta di fare quorum, quando ci si reca al voto c'è il cosiddetto da noi effetto rascinamento. Si vota il partito, la lista che si sceglie e accanto alla lista che si sceglie si sceglie anche il nome che si preferisce, la preferenza appunto. e qualora non si segna il Presidente, per questo effetto di trascinamento il voto va al Presidente con cui quella lista è collegata. Si può procedere anche a un voto disgiunto, così si dice, e si può scegliere un candidato e una lista di una parte, di un Presidente, è collegata con un Presidente e segnare però un altro Presidente tra quelli candidati. Ecco, si può scegliere… un'altra domanda che mi hanno fatto, se uno sceglie, dà il voto solo a un candidato Presidente, ai fini delle liste, come viene conteggiato solo… No, no, vale il voto solo per il Presidente, la lista deve essere segnata. Quindi uno può dare la preferenza… Un voto solo al Presidente. Solo al Presidente, può dare un voto disgiunto, cioè a un Presidente diverso dalla lista collegata. Diverso dalla lista collegata. E in un'altra coalizione. In questo caso le coalizioni non hanno, diciamo, il voto va a secco direttamente al partito, non c'è un premio di maggioranza come… No, il premio di maggioranza è per il Presidente che arriva per primo. Il premio di maggioranza… Ecco, si parla sempre di listino pieno, di listino… cioè il listino scatta tutto interamente… Qual è il… Tutto dipende dal numero di parlamentari che la coalizione esprime. Se esprime un numero di parlamentari inferiore al 55%, per la differenza fino al 55% si prendono da listino. Un Presidente, allora, il Parlamento è fatto di 70 deputati, giusto? Quindi in questo caso un Presidente vincente per attingere al listino, quanti voti deve avere allora? No, quanti voti, scusi, quanti parlamentari deve avere. Sostanzialmente, poiché è il… Quindi la maggioranza, essendo 70, quindi la maggioranza è 36. 36 è il 50%, allora proprio per essere più… in realtà è il 38, è il 38, 39 perché il 55% non è… Ah, 55%. Ma un numero di parlamentari inferiore al 55%, cioè inferiore al 37 o 38 quando dà la percentuale del 55% si attinge al listino per raggiungere questo numero. In realtà per come i partiti hanno presentato, quindi le liste, voi sapete che troveranno a nostri cittadini 12 liste e queste 12 liste hanno un diverso collegamento. Ad eccezione per esempio di 5 Stelle che ha una sola lista con un solo candidato Presidente e noi siciliani ha una sola lista con un candidato Presidente, poi il gruppo cosiddetto del centro-sinistra con quattro liste collegato con un candidato Presidente e cinque liste con il candidato Presidente Musumeci. Benissimo. Qualora la coalizione nell'ambito delle cinque liste non raggiunga una percentuale fino, cosa difficile per come si è sistemato lo schieramento che va al voto per il 5 novembre, il 55% dei deputati, tutti coloro che sono candidati nel listino del Presidente vincente risultano essere tutti eletti, questo è quello che sostanzialmente accadrà con facile previsione. Tra l'altro chi è messo nel listino obbligatoriamente deve essere candidato nella lista provinciale. Ecco perché hanno preferito, di solito non succedeva questo. Questo non succedeva, lo spirito della norma è accettabile, condivisibile per quel che mi riguarda, perché mentre prima non godevano della legittimazione popolare, si è scelto anche col sistema elettorale regionale di scegliere tutti i 70 parlamentari con il consenso popolare, muniti diciamo ad un forte consenso popolare, un fatto di democrazia. Indipendentemente dal voto che prenderanno, se uno è nel listino e si candida in una lista, anche se non arriva il primo degli eletti, gli scatta nel caso che vince il Presidente, diventa comunque deputato, quindi non è vincolante. No, può essere terzo, ma è chiaro che una persona che risulta nella lista provinciale candidato, perché è un obbligo alla candidatura e ha pochi voti, è evidente che usufruisce del beneficio della legge, ma non gode della legittimazione popolare. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Oggi leggevo, ricordiamo poi che c'è anche un seggio dedicato al candidato Presidente perdente con maggior numero di voti. L'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Perfetto, avvocato, oggi leggevo, no, un'altra caratteristica di questa legge è che a differenza magari di altre occasioni amministrative dove lo prevede, non c'è la cosiddetta parità di genere, non è obbligatorio il voto alla donna. Alla donna, eh. Perché in realtà… No, dico, ci sono liste dove, diciamo, le liste dovevano essere 50% uomini e 50% donne, in questo caso non c'è l'obbligatorietà. Due terzi o un terzo. No, due terzi o un terzo, sì, sì. La lista deve essere formata per due terzi e un terzo di genere diverso e quindi i cittadini hanno la possibilità, nell'ambito della lista provinciale, di scegliere o il candidato uomo oppure la donna. Ma sicuramente una lista senza la presenza della donna non è esclusa, non può partecipare alla conversione. Però dico, non è obbligatorio nell'assegnazione del seggio, ecco, la parità… No, chi arriva prima, chi ha più preferenze è eletto nel momento della lista. Ecco, oggi leggevo un fondo in un giornale di un collega, facevo un'analisi molto attenta che, ecco, sarà difficile in ogni caso al neopresidente, stando come, chiaramente una sua valutazione, mi piacerebbe anche la sua, raggiungere la maggioranza. Per cui si possono aprire nuovi scenari di accordi con partiti che al momento non fanno parte del proprio gruppo politico. Perdoni, non è la prima volta. È accaduto la volta scorsa, il presidente eletto non aveva la maggioranza. Nel corso dei cinque anni abbiamo visto nascere diverse maggioranze, cioè deputati che, eletti nel centro-destra o viceversa, eletti nel centro-sinistra, nella fattispecie considerato che Crocetta si professava essere del centro-sinistra, è evidente che vi sono stati molti parlamentari eletti nel centro-destra che sono andati a sostegno, a formare la maggioranza con il presidente Crocetta. La stessa cosa accadrà con questo sistema elettorale, perché le coalizioni che sono in campo, salvo che i cittadini non scelgano di dare una maggioranza a una o l'altra coalizione, ma così come lei prevedeva, così come lei riferisce di aver eletto sul giornale, è facile ritenere che il presidente eletto non abbia la maggioranza d'aula e quindi si rivolgerà al Parlamento per sostenere il programma che ha l'obbligo di presentare nel corso di questa campagna elettorale. E quindi lì sarà costretto a scegliere, a formarsi una maggioranza, che se no le leggi non possono essere approvate. Non vi ho dubbio di questo. Una legge che però non prevede premi di maggioranza, non prevede… Attenzione, lo prevede la legge, il premio di maggioranza che cos'è? È quello che avevamo detto poco fa, cioè il listino. Ma il problema, io ho una mia idea sulla governabilità. Questa è una legge che prevede il premio di maggioranza e tuttavia è facile prevedere che nonostante l'elezione del listino non si raggiunge la maggioranza. Vi sono alcuni che sono decisamente beneficiati. Vi è la novità che devono essere candidati nelle liste provinciali, quindi devono essere legittimati dal voto popolare. Può, come diceva lei, non accadere e quindi una persona può non essere legittimata dal voto popolare e trovarsi deputato. E allora ha senso continuare a pensare a premi di maggioranza quando la maggioranza non è assicurata da quella norma? Questa è la domanda che dobbiamo formularci, perché noi veniamo da una storia repubblicana dove non vi erano premi di maggioranza, vi era un sistema proporzionale, da un lato, lo possiamo dire, perché fuori dalla competizione elettorale vi era la democrazia cristiana, dall'altro il partito comunista, poi vi erano altri partiti, il partito repubblicano, il partito liberale, il partito socialdemocratico, il partito socialista e attraverso una serrata discussione in aula si riusciva a formare una maggioranza. Nessuno di quei parlamentari dell'epoca non era legittimato dal voto popolare, era scelto con la preferenza, poi all'epoca c'era anche la preferenza multipla, multipla in questo caso, con il risultato che comunque si dava una maggioranza, comunque c'è stato per 40 anni la possibilità di un governo. Poi abbiamo scoperto che la governabilità è un dato utilissimo, vantaggioso, per facilitare le decisioni, così è stato detto, con il risultato che non si è tenuto più conto del voto popolare. Ed è quello che sta accadendo sostanzialmente in sede di riforma elettorale nazionale con il cosiddetto Rosatellum, che ricorda tanto il latinorum di Don Abbondio, però in realtà è che i parlamentari li scelgono i partiti, e sono privi di una vera legittimazione popolare, non sono più a rappresentare gli interessi dei cittadini, non sono più a rappresentare gli interessi del territorio, ed è quello che abbiamo vissuto in questi anni. Ma il Rosatellum cambia il nome, ma è molto simile, anzi si aggrava per tanti aspetti al Porcellum, pur non essendo chiamato una porcata, perché addirittura per approvarlo si è ricorso al voto di fiducia alla Camera, facendo svolgere al governo un ruolo che il governo non dovrebbe avere nelle leggi elettorali, che non ha mai avuto nelle leggi elettorali, perché è un compito prevalente del Parlamento fare la legge elettorale. Se non si è capaci o non si trova un accordo in Parlamento, si è sempre detto che non c'è una legge elettorale, può essere sempre detto una grande bugia, perché in realtà la legge elettorale esistente è il cosiddetto consultellum, cioè è quella legge che è uscita a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale. Guardate bene, il rischio che si corre per l'ennesima volta, dico per l'ennesima volta, è che con il Rosatellum sarà di nuovo impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, perché presenta palesi evidenti, presenta grosse violazioni della stessa Carta Costituzionale, e tuttavia si vuole garantire la governabilità, così è quello che si dice, in realtà non garantirà la governabilità, garantirà alcuni, in particolare di scegliere i parlamentari per il nuovo quinquennio. Ma attenzione, mentre questa volta la Corte Costituzionale si è pronunciata dicendo che il Parlamento uscito dal voto elettorale comunque poteva continuare a svolgere il ruolo, non è detto che ciò accada, e quindi con la nuova riforma elettorale e in caso di illegittimità costituzionale della norma non vi è dubbio che vi è il rischio anche di nuove elezioni, che mi sembra tra l'altro la via più democratica, cioè quando vi è un pronunciamento di illegittimità di una legge, gli effetti di quella legge non vi è dubbio che devono venire meno, in particolare in materia elettorale. Anche perché non si tiene conto della volontà popolare del referendum? Non si tiene conto della volontà popolare del referendum, ma al di là, o meglio a maggior ragione, della stessa pronunciamento della Corte Costituzionale, con le contraddizioni che vi sono nella lettura delle due sentenze che la Corte ha pronunciato nella incostituzionalità della legge al Senato e poi si è pronunciata sull'incostituzionalità dell'Italicum, si ripercorre la stessa via perché vi è la paura ad affrontare il voto popolare, la paura e questo è un vatto grave perché è in pericolo alla democrazia in questo Paese, si ripercorre ancora una volta la via di non far scegliere la classe dirigente a coloro che sono sovrani e siccome nella Costituzione vi è scritto che la sovranità appartiene al popolo, è chiaro che il popolo deve essere messo nelle condizioni di scegliere la classe dirigente e di scegliere il parlamentare. Allora brevemente, giusto per arricchire anche la nostra informazione, poi ci ritorniamo magari sulla riforma sul Rosatellum, come funziona così, visto che abbiamo aperto l'inciso perché non parliamo, poi perdiamo un po' di mira, non per sottrarmi alla discussione sul Rosatellum, ma d'altronde entrà già al Senato, quindi si va al voto al Senato, vedi vediamo quello che succede, si sente dire che vi sarà l'aiuto di alcuni partiti e in particolare di alcuni parlamentari. Allora vediamo quello che accadrà, mi auguro di no, rispetto ancora una volta a porre la fiducia al Senato e consentire ai senatori di modificare quello che viene dalla Camera. Vediamo quello che è accaduto però in questa elezione regionale perché sono di grande importanza. Intanto, nonostante il primo di maggioranza, i cittadini sono chiamati finalmente con la loro preferenza a scegliere il loro Parlamento, con il risultato che… Perché c'è questa paura in Sicilia sì e a Roma no? Perdonatemi, vai a lamentarsi dopo, perché i cittadini oggi, il 5 novembre, sono chiamati ad esprimere con la loro preferenza la scelta di un partito, la scelta di un candidato, di mettere una preferenza, abbiamo detto uomo o donna e la scelta di un Presidente. E quindi lamentarsi dopo che quel Presidente governa male o fa cattive scelte, dobbiamo sapere che oggi il voto dei cittadini è determinante. È evidente pertanto che il primo invito che mi sento di fare è quello di recarsi al voto il più possibile, non ha senso l'astensione. Io capisco che vi è un grande malessere, che vi è un grande stato di bisogno nella collettività, che veniamo da 5 anni di disastro amministrativo, che abbiamo vissuto insieme molte illusioni e delusioni, però oggi è il momento della scelta. Oggi si è tutto uguali quando si entra nella cabina elettorale e quindi si è uguali nella ricchezza, nelle idee, si è finalmente uguali nella cabina elettorale con l'espressione del voto, entriamo liberi e scegliamo quello che noi riteniamo essere la migliore scelta. Attenzione, dobbiamo scegliere la migliore scelta, non il meno peggio, così come spesso accade, oppure perché mi chiede il voto l'amico o il vicino. Dobbiamo essere più partecipi, perché il nuovo governo, nell'arco di 5 anni, deve essere il governo scelto dai siciliani. I siciliani finalmente liberi di scegliersi. Un presidente, un governo, in grado di dare alla Sicilia quello futuro che merita, in grado di dare più occasione di lavoro a giovani, in grado di migliorare le scuole, le strade, gli ospedali. Guardate, quello che viviamo costantemente è una situazione di grave disastro, nulla più funziona. Non funzionano gli endi locali, in grave crisi o distesso finanziario. Ci hanno detto che bisognava abolire le province, hanno fatto una nuova riforma delle cosiddette province, in realtà non sono state mai ne abrogate, ne abolite, sono rimaste commissariate per un quinquennio, e già questo è fuori di qualunque logica democratica, ma percorriamo le strade e ci accorgiamo che le strade provinciali in tutta la Sicilia sono abbandonate. Abbiamo visto cosa c'è nel mondo della formazione professionale, abbiamo visto cosa c'è nel mondo della stessa classe impiegatizia. Ormai ci si sente offesi del lavoro che sostanzialmente svolgono perché non riescono più a lavorare. Allora dobbiamo scegliere bene, abbiamo la possibilità questa volta di scegliere una persona che ci rappresenta, innanzitutto il deputato della provincia, il deputato di riferimento, ma attenzione parliamo del deputato della provincia con il Rosatellum per fare questo collegamento. Scegliamo il deputato che il partito decide di scegliere, non esprimeremo più la preferenza, ma saranno messe in ordine cronologico e in più, anche se mi consentiranno la preferenza, metteranno la cosiddetta lista bloccata, quindi significa così come nel listino che chi è primo in lista è comunque deputato, indipendentemente dalle risultate elettorali. E poiché è possibile prevedere che per ogni partito sarà massimo un eletto ad eccezione di due partiti, la gran parte dei deputati, la maggioranza del nuovo Parlamento, la larga maggioranza del nuovo Parlamento che ha fatto i calcoli, si arriva anche al 75% dei parlamentari, in realtà sono scelte dei partiti e non dalla collettività e non dai cittadini. Avvocato, parliamo anche di come si è arrivati alla composizione di queste liste nell'arco del travaglio dei partiti. Io devo dare merito. C'è stato, il centro-destra che bene o male nonostante tanti litigi è riuscito a mettere assieme tante liste omogenee tra loro negli obiettivi, quindi centro-destra. Il centro-sinistra che invece in parte è riuscito perché c'è stata una componente, mi riferisco agli ex del PD, articolo 1, quindi che hanno espresso un loro candidato con il presidente Fava, centro-sinistra con Micari perché è giusto dirgli, Nello Musumeci con il centro-destra. E poi i movimenti autonomisti che è con la Rosa, siciliani liberi appunto con la Rosa. Per cui c'è stata una frammentazione come al solito nel centro-sinistra, il centro-destra invece è stato più compatto. Ecco anche un'analisi di questo percorso. Ma vediamo quello che è accaduto, come si andava all'elezione elettorale, quello che si leggeva sui giornali, quello che si proclamava e quello che poi troveremo nelle liste elettorali. Un dato è certo, i 5 Stelle sono presenti in lista con un candidato che è Cancellieri. Dopo vi è, avevamo sentito nel corso della campagna elettorale, per seguire la lista così come la troveremo in cabina elettorale. Poi vi è la coalizione cosiddetta prima di Fava e poi del centro-sinistra. Perfetto, giusto. Stiamo attenti, Claudio Fava presenta una lista. In quella lista convergono tutti. Converge MDP, convergono i Verdi, convergono tutti colori Fondazione Comunista, convergono tutti coloro che si ritrovano a sinistra, fanno una lista unica, si chiama Centopassi, con candidato presidente Claudio Fava. Poi abbiamo sentito che un sindaco, Luca Orlando, doveva presentare una lista e poi è stato detto arcipelago, e poi è stato detto dall'altro del presidente Uscente che doveva presentare il megafono e poi hanno aggiunto, ma quale, abbiamo anche la possibilità di presentare un'altra lista che era la cosiddetta lista Micari. È un fatto che si è verificato anche nel centro-destra, cioè è venuto fuori, nell'ambito di questa competizione elettorale, un forte ruolo, e io a questo aspiro, dei partiti storici. In realtà non abbiamo visto, non vedremo la lista cosiddetta dell'arcipelago, perché il sindaco Orlando non ha presentato quella lista, così come non ci sarà la lista del cosiddetto megafono e addirittura si fa la cosiddetta lista del presidente Micari con i noti fatti di Messina dove la lista non è stata presentata. Quindi vi sono altri che sono i cosiddetti partiti che hanno lavorato nel corso del quinquennio, che sono presenti nel territorio, che comunque hanno una loro storia. Nell'ambito del centro-sinistra vi è il Partito Democratico, il PD, presente in tutte e nove i collegi provinciali. Sicilia Futura, che aveva operato, che era presente, che si era costituito come gruppo parlamentare, che è presente in tutte e nove i collegi elettorali e quindi Alternativa Popolare, che sceglie di restare a sinistra. Qual è la novità? La novità in questa lista è che non si chiama nuovo centro-destra, si chiama alternativa popolare. Orlando impone un candidato, una persona per bene, quale è il rettore Micari, ma chiaramente non vi dà un grande supporto elettorale, così come veniva annunciato con la lista dei sindaci, tutti attorno, come se essere sindaco significava per Orlando stare comunque in una lista indipendentemente dai partiti che avevano sostenuto quell'espressione. La lista dei sindaci, come la lista del governo del territorio, non si comprendeva per quale ragione dovevano stare insieme sindaci eletti da... Certo, ma è un sindaco del PD, 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 è un sindaco di direzione. Tuttavia si è avuto questo risultato con la lista Micari, all'ultimo non presentata in tutte le nove province, ma ha fatto clamore l'assenza della lista a Messina, dove era candidato il Presidente uscente Crocetta. Se è alternativa popolare, rimane a sinistra ed è il centro del centro-sinistra. Fa la scelta cioè, non è anche questa, io devo aggiungere, fa una scelta di coerenza, perché era in proprio il nome il nuovo centro-destra, ma collocato a sinistra. Sta al governo con Renzi e quindi con un governo che si professa di essere di centro-sinistra, è chiaro che le scelte che fa spesso non sono di centro-sinistra e comunque non sono di di centro-sinistra, ma per quelle che sono le scelte storiche in buona sostanza, cioè questo il governo Renzi ed è anche polemica di questi giorni, sarà ricordato per quello che è accaduto nelle banche, ma non per i nuovi diritti dei lavoratori. Il governo Renzi sarà riconosciuto per la cura che ha nei confronti del cosiddetto capitalismo italiano, sicuramente non per avere migliorato le condizioni economiche dei più deboli e così via, ma non siamo qui a fare polemica anche perché dobbiamo garantire la par condicio, ma stiamo parlando del governo nazionale. Nel centro-drestra si sceglie un candidato che è la terza volta che si canti da presidente, è Nello Musumeci e fa un'ampia coalizione. Intanto si mettono insieme due partiti, fratelli d'Italia da un lato e noi con Salvini. In termini diversi, e questo è il dato rilevante, la Lega che era presente solo al nord, attraverso la nuova sigla di noi con Salvini, incomincia a essere presente in tutto il territorio italiano e anche al sud. Siamo abituati a vedere nella lista anche del sud il simbolo della Lega, l'elezione europea per fare un esempio. Quando si unì con l'MPA ci fu pure, se si ricorda, la Colomba e la Lega. Perfettissimo, però questa volta l'abbiamo presente con un simbolo diverso che è noi con Salvini e espressione anche di una politica diversa. Una Lega che guarda al sud non solo come bacina elettorale, ma come partito che ha un programma condivisibile o no anche per il sud e insieme a noi con Salvini, fratelli d'Italia. La lista Musumeci, non il candidato Musumeci, la lista del Presidente e diventerà bellissima. Sulla base di una frase storica di un noto magistrato hanno fatto una lista presente su tutti i nove collegi e che non ha, ha le caratteristiche se volete, di una lista del Presidente, di una lista civica dove vi sono più forze. Nella Guffaro c'è l'Aquilone. Dopo l'Aquilone, la lista del Presidente, sostanzialmente sono coloro che non condividono il programma dei partiti storici, ma condividono il programma del Presidente e concorrono alla realizzazione quindi di quel programma. Poi vi è stata la possibilità, e questo è un altro elemento, c'è un'altra lista che rappresenta anche un lavoro politico. Ma attenzione, si arriva a un lavoro di sintesi, nasce l'idea Sicilia, vi ricordate l'ex rettore Roberto Lagalla che pensava di fare una lista, poi capisce le difficoltà che ci sono nell'essere presente in tutto il territorio siciliano e converge in altri partiti, per esempio si mettono insieme Cantiere Popolare e il cosiddetto MPA e quindi gli autonomisti. evidente che vi è un netto contrasto in quella lista, basta ricordare che il governo Lombardo per cinque anni aveva sconfessato quello che era stato fatto prima, in questa competizione elettorale riescono a stare insieme. Mi auguro che sia una scelta nell'interesse della collettività, indubbiamente sarà così, però la storia insegna come si può essere nemici prima, amici ancora prima e amici subito dopo. È una lista dove convergono di fatto tre partiti politici direttamente, non si comprende se resteranno un unico partito politico oppure un unico gruppo politico o subito dopo faranno altre scelte. La novità che c'è in questa competizione elettorale è data dal Udc, Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro di Lorenzo Cesa. Il segretario Cesa viaggia da solo ed è presente in tutti i nove collegi provinciali, tra le poche liste che non ha avuto alcune contestazioni in sede di presentazione della lista. Perché è una novità? Perché con Lorenzo Cesa, bisogna ricordarlo, noi venivamo nella precedente competizione elettorale con l'Udc di Giampiero D'Alia, in Sicilia e Casini, quale scelgono di restare nell'ambito del centrosinistra e quindi era un partito dove tutta la classe dirigente, la gran parte della classe dirigente dell'Udc D'Alia, quindi rimane nella coalizione di centrosinistra. Lorenzo Cesa sceglie di costruire un partito nazionale, ma puntando sulla unità dei cattolici in politica. e ricolloca il partito nell'ambito del centrodestra e chiede la valorizzazione di alcuni valori a cui l'Unione dei Democratici e Cristiani si ispira. Guardate, è l'altro elemento che viene fuori in questa competizione elettorale, se ci fate caso, e lo ha affermato anche ieri, non ha chiesto l'immediata rappresentanza in giunta. Perché la rappresentanza in giunta, lo dice lui stesso, è in funzione del risultato elettorale. Ha presentato liste forte che trovano nel consenso della gente in tutte le nuove province della Sicilia e mira a raggiungere un risultato anche a due cifre e quindi superiore al 10%. Anche se nell'accordo che hanno fatto ogni informazione politica tocca un assessore. Avrà una propria rappresentanza, questo sì, ma la caratteristica è quello di dire che per me la rappresentanza al governo non è elemento che sceglie il Presidente, si lascia libera scelta al Presidente di scegliere la persona, ma la rappresentanza che io chiedo è in funzione della mia forza elettorale, cioè di quanti cittadini sostengono le mie ragioni, in funzione del consenso che io ricevo. E un altro elemento fondamentale che c'è stato in questa competizione elettorale è la rinascita di Forza Italia. Forza Italia sembrava essere spenta, disorganizzata, ridimensionata, non presente in tutte le nuove province per quello che era accaduto. Gran parte dei parlamentari avevano seguito le sorti del leader di alleanza popolare e quindi Alternativa Popolare e quindi Forza Italia non sembrava essere presente nel territorio. Dopo la nomina a coordinatore del partito di Gianfranco Miciche, dobbiamo dire per quello che abbiamo vissuto in questa Sicilia, nonostante le critiche che spesso Gianfranco si attira, è riuscito a presentare le liste in tutte le nuove province, liste che godono del consenso popolare. L'altra novità da non trascurare e che è presente nelle liste e che è anche simbolica è la presenza dei cosiddetti siciliani liberi. I siciliani liberi è quel partito che guarda alla indipendenza della Sicilia come un obiettivo è il gruppo che si rifà al professore Massimo Costa, il candidato è La Rosa. Oggi i siciliani sono chiamati anche a esprimersi sulla indipendenza della Sicilia. È un seme che si sta spargendo. Vedremo quali saranno i frutti. Sicuramente avere diviso, vi ricordate che prima dell'esclusione vi era un altro partito, non nei siciliani liberi, ma quelli che si richiamavano a Franco Busalacchi, candidato presidente, significa che ancora non è un'idea matura, in grado di mettere insieme persone che la pensano nello stesso modo. E poi per ultimo vengono esclusi la Pinzone che era candidata a presidente della regione e l'altra che riteneva pure, ma questa si è candidata anche in un'altra occasione, riteneva di candidarsi in questa competizione elettorale e non me ne vorrà per ragione e per condicio, ma non ricordo il nome, in questo momento che è stata esclusa da questa competizione elettorale. Mi pare che abbiamo fatto un'analisi abbastanza analitica, non abbiamo dimenticato nessuno e quindi abbiamo fatto un'attenta analisi. Ciò che è stato anche l'evoluzione dei partiti, che è chiaramente. E molti, all'interno di una lista ci sono tanti simboli e qui magari molta gente, non ci fa caso, però ogni simbolo, ogni partito che c'è raccolto in una lista ha una sua espressione politica, una sua storia politica. Io la pongo solo come domanda, la gente deve scegliere, deve sostanzialmente comprendere se quei simboli sono frutto di programmi messi insieme per raggiungere la sintesi e quindi un unico programma, oppure se quei simboli sono messi insieme per la paura di non raggiungere il 5%. Questo è un dato, come dire, rilevante, perché se la scelta è il timore di non raggiungere il 5%, è poca cosa. Non vanno scelti, perché è evidente che stanno curando i loro interessi. Se la scelta è invece una scelta politica e la sintesi di più idee messe insieme, che proprio per avere maggiore forza, questo vanno premiati. Io ho visto in diversa occasione mettere insieme più simboli in un unico poi partito. Immaginarsi per esempio quando c'è stata la Costituzione, la fondazione dell'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, era il CCD dell'epoca, era il CDU di Buttiglione e di Democrazia Europea di D'Antoni che davano vita a un nuovo partito. Bene, allora io vorrei dedicare questi 5 minuti, ce ne sono 5 minuti, a un dato importantissimo che sta emergendo in queste ore, l'assenzionismo. Si parla di unassenzionismo addirittura al 55%, per cui lei ha già fatto un appello. Sarà importante perché oltre la migliora di Siciliani per evidentemente una serie di motivi di stanchezza, di sfiducia o perché magari non sono presenti qui, chi sono emigrati all'estero e non possono magari scendere, non vogliono scendere. È un fattore determinante per cui si sceglierà non con la maggioranza dei votanti. A Steners ho detto che non è un fatto politico, coloro che vogliono manifestare la loro protesta devono scegliere l'arma del voto, devono recarsi alle urne, perché ho detto non solo perché è quella occasione in cui siamo tutti uguali, ma è un momento per partecipare alla scelta della classe dirigente. È evidente che vi è anche un appello agli emigrati a ritornare per poter esprimere il voto, ma questo non vi è dubbio che vivono già un loro disagio. E allora coloro che sono qua, che continuiamo a restare in questa terra, che continuiamo a vivere in Sicilia, abbiamo anche il dovere di scegliere per loro e quindi a maggior ragione dobbiamo recarci al voto, perché noi dobbiamo esprimere non solo la nostra volontà, ma anche la volontà di tanti che non possono venire per vicissitudine varie, perché si trovano all'estero, perché sono ammalati e quindi dobbiamo invitare sempre di più i cittadini presenti, a recarsi al voto, a informarsi su questa elezione, a capire quello che è accaduto, perché oggi abbiamo la possibilità di scegliere i deputati che ci rappresenteranno, abbiamo la possibilità di scegliere il programma che maggiormente soddisfa i bisogni della collettività. dopo il 5 non ci resta che lamentarci e allora non serve astenersi, bisogna sempre di più informarsi e recarsi alle urne. Attraverso la nostra partecipazione rafforziamo la democrazia della nostra Sicilia. Avvocato, a proposito dei programmi, devo essere sincero, vedo tantissimi manifesti, tantissimi facsimili, ma pochi programmi. Io ieri mi trovo in una riunione politica dove si presentavano i candidati, ho chiesto, ho visto che c'erano tantissimi facsimili, ho chiesto, dico, ma un programma? E l'ho messo in difficoltà. Ah, sa, deve andare nel sito internet, deve andare, ma scusa, un programma anche stringato, di due fogli, per sapere cosa ne pensi della formazione professionale, cosa farai per le infrastrutture, cioè tutte cose, si va avanti per slogan, ecco questa è la sensazione che io ho potuto vedere, anche nelle convention di presentazione, cioè si va avanti per, sì, faremo le strade, faremo questo, faremo quello, senza anche valorizzare, una cosa che, ecco la domanda, e mi avvio alla domanda anche conclusiva, perché siamo lì per lì col tempo che la regia ci ha concesso, in tutte le parti del mondo, stiamo vedendo la Spagna, quello che è succedendo in Catalogna, in Veneto, Lombardia, questa grande voglia di autonomismo, e spesso sento parlare invece della Sicilia, che questa autonomia di cui ti diamo, addirittura se devo parlare di un deputato è un cappio al collo, e questa dipendenza da Roma sinceramente la esprimo, perché l'abbiamo vissuta in tantissime cose, e forse una maggiore autonomia non farebbe male alla Sicilia, ecco su questo penso che possiamo anche concludere la nostra chiacchierata. Intanto concludiamo con un fatto tecnico che lei rileva un dato importante, per l'elezione a sindaco della città, il sindaco deve depositare il programma, per l'elezione a presidente della regione, la legge non prevede l'obbligo di depositare un programma, ed è un limite innanzitutto legislativo, è evidente che i candidati presidente presentano un loro programma, ma spesso diventano slogan, e quindi è un fatto che accomuna tutti i candidati presidenti, allora la prima cosa che bisogna chiedere è, attraverso lo strumento legislativo, obbligare i candidati presidenti a presentare un programma, quello che l'altro elemento, la Sicilia è stata, veniamo dal regno delle due Sicilie, abbiamo ottenuto la nostra autonomia speciale, ma fin quanto nelle scuole siciliane non si introduce l'obbligo di conoscere lo statuto siciliano, quello che è, è quello che è stato, quando dico quello che è, quello che è stato per le differenze che vi sono tra lo statuto nato prima della nostra carta costituzionale, che poi è stato modificato a seguito di interventi della Corte Costituzionale, allora prima bisogna conoscere che significa autonomia speciale, perché l'impressione che ho è che coloro che considerano l'autonomia speciale come cappia al collo, sconoscono lo statuto siciliano, noi non festeggiamo, guardi, nelle scuole, spesso ricordiamo ogni volta, magari diventa giorno di festa, che è il 15 maggio, dove ricordiamo lo statuto siciliano, ma provate a chiedere a tutti gli studenti se hanno un libriccino o comunque qualcosa che li mette nelle condizioni di conoscere cosa significa specialità in una regione siciliana, lo abbiamo visto in Catalogna, lo vediamo nelle regioni del nord, laddove sono a statuto ordinario rivendicano l'autonomia speciale, noi abbiamo l'autonomia speciale, quelli che ne parlano male è perché o hanno visto applicato in modo sbagliato l'autonomia speciale della regione o perché sconoscono cos'è l'autonomia speciale della regione e qui poi aggiungo, evidente se io vedo legiferare un Parlamento siciliano così come hanno legiferato nell'ultimo quinquennio, evidente che è sbagliata l'autonomia speciale, ma a dire il vero, non è l'autonomia speciale sbagliata, è l'ingiusto modo di realizzarla e quando vi è stato, se vi ricordate prima del referendum e quando volevano abolire il Senato, ad altri dicevo perché bisognava risparmiare, perché una Camera fa leggi più veloci e io sono venuto qua in queste mettende e dire guardate che non è così, il bicameralismo consente comunque di fare delle leggi perfette, ma la navetta che c'è, che è una perdita di tempo per alcuni, consente di rettificare gli errori, laddove vi è un'unica Camera, quale quella dell'Assemblea regionale siciliana, spesso, è notorio, si vedono dei parlamentari che inseriscono all'ultimo momento un emendamento, che presentano poi e approvano un bilancio o approvano una finanziaria o un collegato alla finanziaria e siamo al punto che il governo impugna il collegato alla finanziaria, impugna le norme di leggi, leggi che ha approvato quell'Assemblea siciliana che sta passando in modo inosservato, ma attenzione l'autonomia la stiamo perdendo nel tempo, attraverso l'abolizione prima dell'Alta Corte di Giustizia con la nascita della Corte Costituzionale, poi con l'abolizione del Commissario dello Stato e guardate coloro che si sono professati favorevole all'abolizione del Commissario dello Stato e perché costui si permetteva di impugnare le leggi denanzi alla Corte Costituzionale e allora non era corretto dare questo potere. Oggi in assenza del Commissario dello Stato le leggi sono impugnate tutte dal governo perché basta fare cenna ad alcune, la legge di riforma delle province, impugnata. La legge ora collegata alla finanziario impugnata e tante altre leggi che sono state impugnate dal governo che ha messo questa regione nelle condizioni di perdere quella autonomia speciale e dipendere sempre di più dal governo centrale. Questo è quello che si è verificato e allora cosa auguro ai nuovi parlamentari? Di rivendicare maggiore autonomia, di ritornare a applicare per le parti in cui non è stato applicato lo statuto siciliano e rinverdire l'orgoglio di essere siciliani. Questo è quello che mi auguro a tutti i parlamentari eletti di rivendicare sin dalle prime sedute. Bene, noi ringraziamo l'Avvocato Stefano Catuara, abbiamo voluto un po' fare un'analisi di ciò che sono state le liste, di ciò che può rappresentare anche questo voto, abbiamo anche spiegato delle cose tecniche. Il nostro invito è chiaramente anche quello dell'Avvocato di recarvi alle urne e di esprimere la vostra preferenza perché chiaramente in questo momento c'è la massima espressione della democrazia. I nostri pari sono ammazzati, sono fatti uccidere per arrivare alla democrazia, cerchiamo di utilizzarla finché ci è consentito. Grazie, ricordo sempre che la trasmissione la potete vedere sul canale digitale terrestre 92 in tutta la Sicilia e Bassa Calabria, sul nostro sito in streaming www.televideogrigento.tv la caricheremo su YouTube, su Facebook, su Tumblr, su tutti i social che sono a disposizione. Grazie sempre e un buon voto, Avvocato, anche a lei. Un voto a tutti, buona giornata.